Vengo dal Mali Tutti dove sei? Ghana Do you think the sport is important for anti-rassist? Yeah, yeah, it's very important, it's very nice Lui ama lo sport dunque, che non è più solo sport, almeno nel senso agonistico del termine è chiamata collettiva contro ogni tipo di razzismo, discriminazione, odio e paura contro l'altro da noi questo e non solo, sono i mondiali anti-rassisti che oggi si concludono a Castelfranco Emilia riflessione e gioco per dire sì all'uguaglianza, alla multiculturalità non per buonismo, ma solo per constatare che la nostra società cambia e le novità possono essere positive Lavori in Italia? Sì, io sono operario, faccio un lavoro ceramica di stufo in Bibiano Però qui ai mondiali anti-rassisti fai l'arbitro, c'è il fischietto? Sì, 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 io gli è piaciuto per fare abitro 5.000 ragazzi da tutto il mondo, 170 squadre di calcio e 60 per gli altri sport una manifestazione targata Unione Sport per Tutti che ha spento quest'anno le 19 candeline per coinvolgere anche chi alimenta i timori nei confronti del diverso da noi, per colore della pelle, religione e cultura Abbiamo bisogno di abbattere i muri e di costruire invece dei ponti e dei legami con realtà che sono diverse e abbiamo noi come UISP l'impegno di dover valorizzare queste differenze e metterle a disposizione ormai di una mescolanza che è scontata Grazie 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 Grazie